Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo il seguente volume, consigli pratici per il fermo modellista. Come costruire un plastico, studiare il tracciato dei benari, il paesaggio, gli elementi base per i collegamenti elettrici ed elettronici e volendo anche i rotabili. L'autore è Giorgio Di Modica, l'editore è Libri Sandit e il volume costa 22,50 euro. Se volete potete acquistare questo volume presso il nostro sito web www.elettronicadidattica.com Buona lettura, a presto! Grazie a tutti!